In Commissione Ambiente della Regione Abruzzo si svolta un'edizione dedicata alla gestione al futuro della riserva naturale del Borsacchio. L'incontro ha segnato un passo in avanti rispetto alle tensioni degli anni passati e ha visto la partecipazione del Presidente dell'Associazione Guide del Borsacchio, Marco Borgatti, in rappresentanza di oltre 300 associazioni e dei 32.000 firmatari di un appello per la tutela dell'area protetta. È stata una giornata costruttiva. Abbiamo ricordato il perché eravamo lì, perché c'è stato quel famoso emendamento la notte del 29 dicembre, che andava di fatto a cancellare la riserva Borsacchi, di come dopo una forte ondata popolare, 32.000 firme, 300 associazioni, e dopo numerosi esposti in Ministero, il Ministero dell'Ambiente ha inviato una secca nota dove ricordava che la tutela dell'ambiente nella Costituzione, che lo Stato italiano si è impegnato ad aumentare le superfici protette e che la tutela dell'ambiente è una competenza dello Stato e che una Regione in autonomia può procedere solo in meglio e non in peius. Un tema centrale dell'audizione è stata l'attivazione del piano di assetto naturalistico PAN ha ritenuto cruciale per garantire una gestione efficace e condivisa dalla riserva. Lo stesso Ministero dell'Ambiente ha indicato il confronto costruttivo come la via principale per superare le divergenze tra le parti e trovare soluzioni sostenibili. Il Ministero è stato chiaro e noi siamo aperti al confronto, bisogna risolverlo all'interno degli strumenti di pianificazione, così come è stato fatto per uno dei temi scottanti, l'ampliamento dei casolari storici, circa 12. Quindi siamo aperti, è stata una giornata di piacevole e importante confronto, a cui diamo merito anche alla Regione Abruzzo, ma adesso è importante continuare e non perdere altro tempo, lavorare insieme per migliorare gli strumenti di pianificazione e chiudo dicendo che questo è un compito che spetta alla Regione Abruzzo. L'approvazione del PAN non spetta al Comune, spetta alla Regione Abruzzo.